Inizia la stagione del Vespa Club Levador? Sì, inizia quest'anno 2017 la stagione del Vespa Club di Rivarolo, anche quest'anno saranno molte uscite, novità, il campionato turistico è molto bello, durante l'anno si raccoglieranno dei punteggi in base ai chilometri fatti e dopodiché a fine anno un bel premio. Anche quest'anno benedizione a Rivarolo, Don Maurizio è stato bravissimo ed è caduta anche una giornata particolare, la Domenica delle Palme, molto intensa. Come potete vedere ci sono quasi 140 iscritti che arrivano un po' da tutto il Canavese, alcuni dei Brea, San Maurizio, Cornier, Forno, insomma si inizia bene, iniziamo col piede giusto e poi la giornata è molto favorevole. La giornata si svolgerà con un aperitivo qua a Rivarolo, in Viale Berrone, dalla trattoria c'era una volta, poi faremo un bel giro per il Canavese e si andrà a mangiare da Mauro alla storia a Cornier. Speriamo di avere successo come gli altri anni e poter raccogliere e poter dare un aiuto concreto, come facciamo nel resto da molto tempo, alle persone che hanno più bisogno chiaramente. Diciamo che il veicolo Vespa serve non soltanto per muoversi ma per portare anche della solidarietà.